L'Italia supera la Svizzera per 3 a 2 e conquista così l'International Beach Soccer Tirrenia 2024 al Centro Federale di Tirrenia. Entrambe le squadre saranno poi protagonisti tra due mesi per gli europei in programma ad Alghero a settembre. Per l'Ital Beach sono stati cinque giorni emozionanti, partiti con una sconfitta difficilmente preventivabile contro l'Estonia ai tiri di rigore 10 a 8 e poi proseguiti con un cammino che ha ritrovato agli azzurri già conosciuti, quelli campioni d'Europa e vice campioni mondiali in carica. Un percorso fatto di larghi successi contro Cecchia 10 a 0, Danimarca 3 a 1. Nella gara della finale in evidenza il viareggino Luca Bertacca autore di una doppietta che gli ha permesso di chiudere il torneo da capocannoniere insieme allo svizzero 8 con 7 reti. E' lui a sbloccare il risultato poi il portiere Leandro Casapieri anche lui viareggino migliore al mondo nel ruolo sale in cattedra. Nel finale di terzo tempo Odell riapre la gara. Dopo un minuto Joseph Junior riporta due reti di vantaggio per l'Italia 3 a 1 ma la Svizzera non ci stai a 36 secondi dal termine ancora Odell a firmare la doppietta personale. E' l'Italia però che porta a casa il trofeo con cinque giocatori del viareggio Bic Soccer. Carpita, Bertacca, Remedi, Genovali, Fazzini, più l'altro viareggino Leandro Casapieri portiere del Pisa Bic Soccer. Premio miglior giocatore Ott della Svizzera, premio miglior portiere Casapieri Italia, capocannoniere Ott Svizzera e Bertacca Italia con 7 reti.